Hanno addirittura al capodelegazione dei ciechi della Repubblica cieca detto che sanno loro che sono fuori tempo massimo, e questo Tchaikovsky ha raccolto queste firmarelle, hanno firmato i visegrad, questi qua gli ungheresi, volacchi, ma niente di che, proprio perché è una rivoluzione. Invece noi crediamo che sicuramente domani, ve lo dico, se no vado da Tchaikovsky, come si chiama Chopin, non succederà, in politica mai dire mai non succede, sono contenta che l'abbiano fatto, vuol dire che abbiamo fatto bene, abbiamo centrato l'obiettivo, stanno come i pazzi, sono neri, verdi di bile.